Faccio questo video, ne dovevo fare un altro che riguardava sempre pini, il discorso rapportato al substrato mi hanno fatto una domanda molto carina, molto bella su un concetto del substrato e volevo approfondirlo Allora, niente, invece adesso ho deciso di fare un video perché questa mattina quando mi sono alzato Facebook mi ha proposto, tra i ricordi, una mia pianta che è il tasso che si vede, questo qua, questo è un po' trasandato, purtroppo quest'anno non è da più di un mese che un giorno sì non ho grandina e con grossi danni, i miei colleghi hanno avuto dei danni ma anche le ornamentali in genere nei giardini per cui ho dovuto ottenere le piante riparate Questo fa sì, io non ho un giardino grosso, molto spesso esposto all'ombra e quindi non prende il sole che dovrebbe prendere per fare la vegetazione giusta Allora, facciamo una cosa, partiamo con la nostra orrenda sigla stonata dopo la sigla stonata torniamo qua e vi dettaglio quello che riguarda quel tasso Ok, dicevamo, condizioni non speciali per quel tipo di pianta, quindi cresciuta, anzi mi metto così, così parliamo proprio di lei cresciuta con poco sole o quantomeno la quantità inferiore a quella che desidera quindi ha preso un volume un po' più alto di quello che necessitava e niente, adesso la voglio sistemare, rimetterla un po' in forma non so se la presenterò quest'anno perché adesso, sapete, a fine settembre ci sarà arco la volevo portare ma non sono convinto perché devo cambiare l'inclinazione nel vaso così, quindi non la voglio far vibrare poco tempo dopo il rinvaso anche se il rinvaso è una pianta così matura fatta adesso non gli dà grossi problemi però voglio evitare che vada a vibrare comunque, vabbè, piponzoli e devo sfoltirla un po', allora ho detto questo ricordo riproposto da Facebook, dal mio profilo Facebook anzi se volete andare a vedere come era la pianta un po' di tempo fa, lì vedete e ci sono tutti i dettagli a fase di crescita un profilo vivo saporito, ma lo sapete e adesso gli diamo una sforbiciata perché Tatina ne ha bisogno allora vedete qui come purtroppo la pianta si è dovuta ricoverare all'ombra e vedete, tra l'altro di traverso vedete come ha fatto delle cacciate anomale cioè stando sempre sotto l'ombreggiante sempre un po' protetta così vedete che purtroppo è cresciuta più del previsto perché è in assenza di sole per compensare ecco, ha avuto questa crescita va bene, sta benissimo la pianta vi faccio magari una close up vedete, sta super bene ok e anche sotto vedete colore super verde super bello è unica cosa che le crescite sono andate un po' oltre al previsto tra l'altro vedete è forte perché sta facendo la seconda cacciata e niente, dobbiamo un pochino metterla in bolla anche in previsione delle future mostre se deciderò di portarla perché vabbè avevo intenzione di portare altro ma chissà teniamola lì pronta dunque allora siamo partiti vedete come un batufolone pieno ecco mi metto così scusate perché ho piazzato non ho il tavolino giusto non ho il tavolino del mitico tiziano per cui sto usando il tavolo normale da giardino quindi devo stare un po' gobbo vabbè niente sono sempre gobbo alla fine niente vedete come è tutto ciuffoso a parte che deve alzarsi leggermente così però è tutto ciuffoso e in più questo peso va a sottrarre tanta importanza alla pianta allora dobbiamo alleggerire siamo a un punto di maturazione molto importante dove il lavoro si fa con questa con la forbice anzi si dice che il danno più grosso che si fa con la forbice è il non usarla ecco questo qua è quasi un danno perché è cresciuta veramente tanto la pianta dovevo usarla un pochino prima e niente adesso andiamo lo poto leggermente in modo tale che la crescita si fermi è una situazione non è che vado a contrastare la sua crescita quindi ho un calo di vigoria la pianta mi sta male no perché in questo periodo la pianta già tende a essere ferma a parte i piccoli cacci cosa faccio lo spunto pulisco un po' la vegetazione interna così lei è già è già spronata per fare nuove gemme che ora si preparano aprirà poi l'anno l'anno venturo e quindi l'anno venturo avremo un infoltimento ok niente via si va di forbici non servono grossi grossi attrezzi perché ripeto sono lavori di fini un conto tante volte io vedo chi si ispira al bonsai e entra nel bonsai da poco vede magari le demo le dimostrazioni le prime impostazioni dove hai dei grossi rami prendi riporti metti lì quattro ciuffi però quella è completamente diverso lavorare a un bonsai del genere rispetto a un bonsai maturo cioè lì lo formi quindi hai delle esigenze qua lo devi mantenere ne hai tutt'altre ci vuole lo dicevo già in un altro video ci vuole tanta esperienza arrivare perché non solo le essenze sono diverse ma la stessa essenza pianta pianta è diversa quindi ci vuole tanta tanta così esperienza per capire il soggetto che abbiamo di fronte cosa 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 ci propone allora quali quali sono le attenzioni che ha bisogno niente partiamo io adesso parto qua beh ad esempio come faccio io di solito parto dai punti dove ho la vegetazione che spara lontano e magari ho anche una concentrazione esagerata della vegetazione il grosso danno qui faccio vedere è la parte dietro dove la vegetazione è cresciuta molto e va verso l'alto è una cosa naturale si fa anche per chiudere la forma in modo tale che dietro non traspaia la luce e vi diamo un senso di perdita di concentrazione quindi un po' deve essere così effettivamente qua però è cresciuta tanto quindi dovremo trattenere niente andiamo avanti comunque e pian piano andiamo a ripulire la nostra piantina forbicine è un lavoro qua adesso io a brevio ma ci va del tempo allora volevo dimostrarvi anzi mostrarvi a volte con lasciando la pianta in ombra cosa succede ad esempio questo qua è un rametto che si è disseccato è fisiologico è normale non bisogna avere paura perché comunque non aveva più le condizioni di luce per poter sopravvivere vedete era già debole di suolo origine però più si lascia la pianta appesantita più succede questo per questo bisogna potare rinnovare la vegetazione in modo tale che la vegetazione superiore vediamo se riesco a farvi ecco vedete qua come molto folta la vegetazione superiore non deve andare a fare scudo del sole nella vegetazione sottostante quantomeno lo fa per natura sotto certi aspetti è utile perché protegge anche i tronchi i rami della scottatura però non deve andare oltre a una certa diciamo a un certo limite perché se fa troppa ombra rami troppo fitti cosa succede sotto la ramificazione patisce muore e non si creano nuove gemme arretrate e allora bisogna sempre far trasparire un po' di aria e luce in modo tale che vi sia sempre un rinnovo della vegetazione l'abilità nel lavorare un bonsai maturo è sempre quella andare sempre a cercare di far rinnovare la vegetazione ecco ragazzi una cosa molto molto importante questo è un tasso cuspidata tasso baccata e lavora diversamente in modo molto molto diverso adesso vediamo se riesco a mostrarvi qua come sfoltire un pochino allora adesso vabbè perché ho la pianta così vi volevo fare il video ok di solito io parto dal retro anzi la cosa più sensata partire dal retro e poi far la rifinitura sul fronte perché questo perché riesco ad andare a tagliare diciamo le parti che allungano in eccesso e poi andando a potare sul fronte faccio in modo tale che riesco a potare i rami in modo giusto così creando le spaziature in base all'ingombrico sul fronte se faccio diversamente cosa succede io poto prima davanti poi poto il fronte e di solito non si fa con la stessa minuzia poto il retro non si fa con la stessa minuzia del fronte perché se sei dietro devi continuare a fare dietro avanti dietro avanti e non diventi matto e cosa succede quando ti fai il fronte tu hai già l'idea di dove fermarti perché se no ti traspare troppa luce dal retro io faccio così poi un discorso anche di abitudine di abilità è chiaro che chi lo fa la prima volta non riesce magari a farsi un'idea dell'effetto che avrà potando la parte del retro la parte posteriore quindi magari preferisce fare prima il fronte poi il retro poi ripassare sul fronte e via però una questione di abitudine ricordatevi allora tante volte si parla delle tecniche bonsai ma ricordatevi che ogni bonsai dice ma quello mi ha detto così tu mi dici cosa no ma ci sta perché ogni bonsai sta al proprio metodo e insieme al proprio metodo a volte adotta delle sfumature delle tecniche perché lui si è trovato bene con quei modili allora va avanti così anch'io che mi fa i miei corsi online così molto spesso dicono ma si può fare anche in un altro modo sì molto probabilmente si può fare ci sono colleghi che lo fanno però se il corso te lo sto dando io e ho avuto ottimi risultati in quel modo preferisco dirti di far così perché sono certo che tu avrai risultati e poi è chiaro che magari un altro collega ha dei buoni risultati con un altro modo insegnere in un altro modo è normalissimo ci sono tante vie per arrivare ad un determinato risultato sfruttando in un modo o l'altro le scienze agronomiche e magari sfruttando nel modo diverso si arriva poi ad un risultato simile se non uguale non è ecco non bisogna essere talebani di un metodo piuttosto che dell'altro assolutamente ecco piuttosto stiamo parlando è una cosa adesso ve lo mostro stiamo parlando allora di regole scienze agronomiche non di imparatici così cioè ci sono delle regole ben precise da seguire uno non è che può dirmi che ne so se prendi la pianta e li metti la metti al buio per tre mesi sta meglio che metterla al sole adesso faccio un paradosso impossibile però sta meglio che metterla al sole perché si sa che gli studi e regole agronomiche dicono ben altro ok però invece ci sono altri casi dove ci sono una serie di sfumature che sono applicabili e vanno bene si usano anche per la coltivazione così le ortive così ci sono diversi protocolli che si possono seguire non ce n'è uno solo e quello funziona il bonsai è un pochino particolare perché deve seguire anche le tecniche allora a seconda delle tecniche che applichi magari la pianta ha una reazione diversa rispetto a un altro cioè ci sono due bonsai sti che dicono no se io faccio così perché dopo quella tale reazione allora arrivo al fine se faccio un altro modo non arrivo al fine perché chiaramente vai cerchi di raggiungere lo stesso punto passando da un'altra strada però se è percorribile si fa allora adesso vi faccio vedere un close up un close up state lì allora proprio qua ad esempio volevo inquadrare vediamo se riusciamo a dare dettagli in questa zona qui qui è difficile dettagliare lì ok qua adesso allora ok così va meglio se guardate qua sotto c'è una gemmina e sopra c'è un taglio ok io ho tagliato qua guardate sotto cosa c'è la gemmina la cosa è fatta apposta in modo tale che ho tagliato il pezzettino che arrivava per dire fino a qua così ho tagliato quei 23 cm sono arrivato qua e ci sono le gemmine arretrate saranno pronte poi per il risveglio dietro pulirò il mio rametto dove dietro pulirò il mio rametto in modo tale che andrò a togliere questi aghi che oramai sono vecchi e partiranno altre nuove gemme che potranno sostituire la vegetazione se noi guardiamo ad esempio la in fondo ha ammesso che io riesca a inquadrare perché un punto è difficile farle inquadrature così c'è un milione di cose ne devi mettere a fuoco uno dov'è qua allora qui dove investire un cavalletto qui questa gemmina qua sotto se la vedete ecco io togliendo la vegetazione sopra favorirò lo sviluppo di questa gemmina questo puntino qua verde spero che si veda magari non è molto agevole favorirò lo sviluppo di quella tal gemmina ok vedete così forse si vede un po meglio che se io vado a togliere roba dietro delle gemmine ad esempio qua c'è una gemmina dietro si stanno aprendo ecco io togliendo vegetazione sopra la dove è troppo dove mi filtra la luce favorirò lo sviluppo di quelle gemmine e automaticamente avrò poi un infoltimento ok allora adesso riposizioniamoci un pochino qui scendiamo un pochino e niente vado avanti a potare ecco adesso io per aprire lì vedete cosa ho fatto volevo da naturalezza per aprire lì per farvi vedere quelle gemmine ho fatto praticamente tutto spettinato niente potiamo torniamo indietro ripettiniamo e via dai ragazzi vado avanti con il mio lavoro ci si vede fra un po perché comunque un lavoro abbastanza lungo è è vero che poi chiacchierando vengono già cosiddette di cose pensate quante cose che anche solo chiacchierando vi ho detto e pensate chi vuol fare l'instant bonsai quanto è lontano proprio concettualmente cioè che ne so quando uno viene a lezione parliamo di tantissime cose magari non va a casa con la sua pianta finita ma parliamo veramente di tantissime cose e lì si impara ok se uno basa la propria formazione su di video youtube è molto limitante capite molto limitante adesso anche il concetto io faccio i video per così il mio lavoro io sono un istruttore il mio lavoro è istruire e per cui cerco di stimolare no la voglia di approfondire quant'altro il mio lavoro non è quello di vendere video su youtube perché altrimenti farei dei clip bite con migliaia e migliaia di visualizzazioni e porterei a casa il mio stipendio a fine mese no questa qua è la pubblicità per poi avere gente in laboratorio ed è da lì che io lavoro praticamente lì che ne trago reddito non dal dai proventi di youtube che sono quelli che sono ecco vi dico solo che adesso ho dovuto cambiare attrezzatura coi proventi di un anno ho speso ho guadagnato circa un terzo del dell'attrezzatura che ho dovuto rinnovare per dire no è un piccolo piccolo contributo ecco niente anzi per quello se magari mi condividete mi mettete il like è una cosa che apprezzo almeno quelle buona dai vado avanti ci vediamo dopo quando siamo un po più avanti con lo step di lavorazione eccolo la ragazzi allora potato c'è voluta qualche ora ma andava fatto ci sono ancora delle zone come qua così qua o qua che vedete dei buchi ma è una cosa voluta vedete anche che ho cambiato posizione sto rischiando speriamo che non grandi in modo tale che prenda la luce giusta si orienti verso sole faccia quello che deve fare e dopo potrò mamma insetto che era potrò con qualche tirante regolarlo e andare a chiudere quegli spazi in eccesso però intanto gli abbiamo dato luciare a quello che serve da qua a un mese da un mese e mezzo ora della eventuale presentazione perché non so ancora se lo presenterò vedete l'ho rialzato un pochino e dell'inclinazione che avrà effettivamente sta pianta ve lo faccio vedere da vicino ecco qua allora vedete nuova inclinazione la pianta è un po più larga rispetto prima questa è anche un po l'effetto schiacciato e dalla camera però questa zona qua va risollevata e riportata un po in dentro adesso io l'ho abbassata per fargli prendere più luce ma andrà riportata indietro risollevata andrà potata leggermente qui in questa zona però siccome c'è un ramo che devo abbassare se lo poto già si accorcerà e quindi farò dopo eventualmente un fine tuning dietro se vedete era molto chiusa l'ho aperta in modo tale che ci sia più area sia meno appesantita come forma perché comunque la forma molto mossa meno appesantita almeno a me piace di più così poi ognuno per l'amore di dio è libero di pensarla vi faccio vedere il lato che se vi ricordate era un cespugliosissimo vedete da qua se ci passo vedete come è stata parte va bene ci sono due ciuffi che sparano vedete come è rientrato molto e così e l'ho portata di tanto è perché guardate qua vedete questo ben di dio portata e molto niente lasciamola qua un determinato periodo ora che si orienti e poi vedremo se sarà il caso di filarla filare alcuni determinati punti di potarla ancora questi ve l'ho detto ci sono i tiranti a mettere allora questo va rialzato e questo vari ri abbassato modo tale che chiuda gli spazi in eccesso ma adesso a livello fisiologico ha bisogno sti spazi buona gente allora video non previsto spero comunque che vi sia piaciuto così doveva essere un video di qualche minuto per farvi vedere che mettevo mano però in realtà poi io quando parto con la chiacchiera ecco mi sono lasciato un po andare qualche consiglio non guasta mai non guasta a nessuno neanche a me stesso che mi rivedo i miei video e mi metto anche il like e fatelo anche voi e niente dai se ci sarete ci vediamo ad arco a fine di settembre se sarà possibile con queste problematiche covid e niente altrimenti seguite i miei video studio bonsai subria se volete venite in laboratorio a settembre ripartiamo alla carica con tante anche nuove lezioni online tante novità e siamo qua studio bonsai subria ivo ciao